Paolo, io ho un ricordo così bello che solo il pensiero mi si riscalda il cuore. Abbiamo fatto un film insieme, meraviglioso Boccaccio. Ero incinta all'epoca e mi ricordo stavamo girando questa scena della mia morte, dovevo morire avvelenata, girata da sopra in macchina, una morte con gli occhi aperti e dovevo alla fine, appena prima di morire, dovevo calarmi sulla faccia questo lenzuolo bianco. Insomma, mi sono sdraiata su questo letto, ho cominciato la scena, sofferenza, l'ultimo respiro, metto su il lenzuolo e sento dall'altra parte della stanza la voce di Paolo che urla, che stava al monitor e dice, Kasia, non ti muovere, non respirare! Io cercavo davvero di non respirare più, insomma, ero morta. E ho detto, Paolo, non sto respirando! Non mi muovo, sto cercando di stare fermo! Allora Paolo a questo punto ha venuto e ha detto, ma no, si muove la pancia, si muove la pancia! Ecco, dentro la mia pancia c'era mio figlio, che era una scena girata verso la sera, lui verso la sera cominciava a dimuoversi, quindi abbiamo dovuto tagliare un po', stringerne in quadratura, escludendo la pancia, lasciando solo il primo piano. quel set, quelle persone, loro due che sono stata sul set, ma, cosa, due settimane? Intensissime, bellissime! Non mi scorderò mai l'affetto con quale mi hanno circondato tutti quanti, questi due maestri indiscutibili, la mia gratitudine di poter fare un'esperienza, un pezzettino di mia vita, viverla accanto a loro due. E poi c'è un'altra cosa, io credo che le persone che si contornano di belle persone sono vere. Il set di Maraviglioso Boccaccio era vero, era un gruppo di persone che fanno sì che la visione dei registi diventa vera e lo fanno col cuore. Credo che questa cosa distingue grandissimi maestri, contagiare con il proprio amore altre persone che solo spinte da questo amore riescono a dare davvero di più, davvero tutto quello che gli si chiede è anche di più. Paolo ti stringo forte, lo sai benissimo cosa provo per te. Se esiste un'altra vita, e io un po' credo che in fondo esista, io credo che noi ci siamo già incontrati nelle vite precedenti, perché quando incontri una persona e senti qualcosa di familiare, come se l'avessi già incontrata, ecco, quelle sono delle persone speciali e una di quelle sei tu.